Guardate la comodità di questo microfono, ce l'ho attaccato qui al collo e io posso camminare all'interno del mio studio e in qualunque posizione vada mi sentirete perfettamente. Sembra un po' una cosa porno. Signori, oggi parleremo di audio e di quanto è importante avere il microfono giusto durante le vostre live streaming. Trattiamo questo argomento perché tra le mani ho avuto modo di provare questo microfono wireless. Ne esistono di diversi tipi, in questo ambito vengono utilizzati ad esempio i dinamici o quelli a condensatore, solitamente su un'asta con lo svantaggio di non potersi muovere più di tanto all'interno del vostro studio. Bene, oggi invece vi mostrerò un tipo di microfono collegabile direttamente alla vostra mirrorless o ai vostri smartphone che vi permetterà di essere liberi da cavi e di non avere quel fastidioso effetto di abbassamento di voce quando vi distanziate dal microfono. Sono ovviamente perfetti per fare live VRL. Bene, prima di iniziare come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per non perdervi tutti i video in uscita, venite a trovarmi su Twitch per farvi due chiacchiere sul mondo streaming e qui sotto in descrizione vi lascio ovviamente il link per acquistare questo microfono e il nostro canale Telegram pieno di offerte per gamer e streamer. Vi lascio anche il nostro sito, Improve Your Stream, punto di riferimento per tutti i content creator che vogliono crescere attraverso le nostre consulenze, grafiche e assistenze tecniche. Direi che per questa intro è tutto, ci vediamo dopo la sigla. Come sempre questo video è sponsorizzato dai nostri amici di Oned e andiamo a vedere il loro super sito. Eccoci qua sul sito di Oned, come potete vedere ci sono tantissime grafiche per le nostre live streaming, dai pack completi alle motte, gli stemmi e tanto altro. Guardate ad esempio questo pack, si chiama SynthRunner. All'interno trovate tantissime grafiche animate e statiche per i vostri canali Twitch. Sicuramente uno dei migliori modi per avere grafiche professionali appena si inizia a streammare. Come vi dicevo possiamo trovare anche le motte e sono animate. Guardate che belli questi lupi e all'interno del pack ne trovate 8. Mi raccomando qualunque prodotto di grafica acquistate all'interno del sito di Oned utilizzate il codice M89-Gamer per ricevere subito lo sconto. Davvero molto curato il packaging di questo prodotto, molto più di altri modelli similari che ho acquistato nel tempo. All'interno della scatola troviamo la custodia con la marca stampata al di sopra, il materiale ha un ottimo grip e dal tatto sembra davvero resistente. All'interno troviamo il trasmettitore a clip, il ricevitore che ci permetterà anche di controllare i volumi e la batteria di entrambi i dispositivi, il cavo adattatore per fotocamera da TRS a TRS 3.5, quello per smartphone da TRS a TRRS da 3.5, il cavo di ricarica a doppia testa USB Type-C in modo tale che potremo caricare entrambi i dispositivi contemporaneamente, la copertura a paravento per il nostro microfono e infine il lavalier. Davvero molto comodo e potete nasconderlo anche sotto una maglia. Parliamo del microfono, l'ho utilizzato direttamente collegato alla mia Sony ZV-E10 e devo dire che il risultato è davvero valido. Come vi dicevo nella intro, uno dei vantaggi di questo dispositivo è il fatto che non abbia fili e potrete camminare tranquillamente per il vostro studio senza impedimenti e senza l'effetto fastidioso dell'abbassamento audio quando ci spostiamo. Dal momento che vi forniscono anche il cavo TRRS da 3.5, potrete collegarlo anche ad uno smartphone. Perciò diventerà un must per chi fa IRL. Avrete un audio professionale anche nel caso in cui ci sia del vento perché potrete utilizzare la copertura ad hoc. Questo sistema utilizza una tecnologia wireless 2.4 GHz che fornisce una soluzione di alta qualità su tutti i dispositivi. È composto da un trasmettitore e da un ricevitore. Il trasmettitore verrà posizionato su di voi o sul vostro ospite, mentre il ricevitore andrà collegato allo smartphone o alla fotocamera. Se avete un iPhone piuttosto recente ricordatevi di acquistare un adattatore tipo questo che trasforma il Lightning in un jack 3.5. Dovrete accendere entrambi i dispositivi che si connetteranno direttamente e nel display del ricevitore troverete la batteria di entrambi, il segnale wireless e il volume dell'uscita. Vi consiglio di non utilizzarlo A5 bensì A3. Dopodiché il gioco è fatto, il microfono essendo plug and play è davvero molto semplice da configurare. Mi raccomando tenete d'occhio i volumi perché rischiate di gracchiare, soprattutto se avete una voce molto potente. Potrete caricare con il medesimo cavo il ricevitore e il trasmettitore. Ricordatevi che l'autonomia con un'ora e mezza di ricarica arriva fino a 5 ore di utilizzo. Rispetto alla concorrenza questo prodotto costa molto meno ed attualmente si aggira intorno ai 90-95 euro. Vi lascio qui sotto in descrizione tutti quanti i link se volete acquistarlo su Amazon. Io sinceramente ne sono soddisfatto, infatti lo utilizzerò per nuovi format su Twitch. Allora questa qui è la qualità del microfono. Si sente direi abbastanza bene. Questo qui invece è il mio garage dove all'interno ho costruito la palestra e dato che ora ho questo microfono direi che ci porto qualche format su Twitch. Bene signori spero che il video vi sia stato utile, in tal caso mi raccomando lasciate un pollice in su. Oggi abbiamo visto un prodotto davvero ottimo, qualità prezzo e versatile. Soprattutto per chi ha la necessità di muoversi durante le live nel suo studio o in esterna. Tutti i link li trovate qui sotto in descrizione e se avete dei dubbi scrivete pure nei commenti. Iscrivetevi al canale se già non l'avete fatto, attivate la campanellina per non perdervi tutti i video in uscita e venite a trovarmi in live su Twitch. Qui sotto in descrizione vi lascio il nostro canale Telegram che vi consiglio di seguire per le offerte personalizzate da gamer e streamer ed il nostro sito Improve Your Stream, punto di riferimento per i content creator in Italia che ovviamente vogliono crescere attraverso le nostre consulenze grafiche ed assistenza tecnica. Noi ci vediamo al prossimo video, buona streaming a tutti!